Di nuovo in studio con i nostri aggiornamenti, allora tutti in retroscena, la base dell'arresto di Salvatore Baldassare, 30 anni, il presunto killer di Lino Romano, il ragazzo ucciso per errore nel corso della guerra di Camorra, della faida di Scampia. A quanto pare a incastrare l'uomo sarebbe stata una intercettazione di un dialogo con un affiliato, Baldassare avrebbe detto, giustificando il suo errore, che quando sparo non riesco più a fermarmi. Difatti il povero Lino Romano fu assassinato con 14 colpi che andarono quasi tutti a segno. Le carabinieri di Caserta hanno notificato un'ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP di Napoli su richiesta della procura antimafia nei confronti di quattro presunti affiliati alla fazione Schiavone del cambio di Casaresi. Quattro sono ritenuti responsabili di concorso in estorsione. Tra i destinatari c'è anche Carmine Schiavone, 30 anni, figlio del boss Francesco Schiavone, meglio noto come Sandokan. Per l'incendio di Città della Scienza il sospetto che si trattasse di un'azione dolosa era emerso da subito nella prima ora, è quanto ha affermato il presidente della regione Campania, Stefano Caldoro. È tutto, ci ritroviamo più avanti con la nostra informazione.